La ragazza stava arrivando, come vedete c'è questa curva, lì c'è la nostra auto di servizio, a un certo punto ha perso il controllo del mezzo, ha abbattuto come vedete quel palo di cemento, da lì la macchina si è resa ingovernabile, ha praticamente attraversato la strada, ha proseguito come potete vedere anche dalle tracce il suo percorso ormai fuori controllo, da qui si è impattata contro questo tombino di cemento e questo palo della luce della distribuzione elettrica e poi vedete abbattuto anche il cartello che segnala la curva e da lì ci sono anche altri pezzi all'interno del fossato. Un tratto di strada molto pericoloso, un lungo rettifilo che da cisterna porta a Nogaredo dove la velocità è di casa, poi la curva secca che trae l'inganno già teatro di altri sinistri dall'esito mortale. Non si esclude che la protagonista, una ragazza 22enne diretta verso il vicino centro abitato, forse per una distrazione, un colpo di sonno abbia perso il controllo del mezzo, reso ingovernabile anche per l'asfalto, reso viscido dalla pioggia e da materiale di riporto che hanno innescato la carambola abbattendo due pali della luce e centrando un tombino in cemento che ha fermato la soccorsa. Sul posto sono giunti celermente i soccorsi. I vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna dalle lemiere con torte dell'auto. sempre cosciente è stata presa in consegna dal personale infermieristico sanitario e a bordo dell'ambulanza trasferita d'urgenza all'ospedale di Udine dove si trova ricoverata in prognosi riservata, per fortuna non è in pericolo di vita. Rilievi da parte dei carabinieri.